Ciao ragazze e ciao ragazzi, siamo tornati finalmente. L'orario è tardo, andiamo con due varianti e la richiesta è sempre vostra. Andiamo a vedere cosa pensa, cosa prova, cosa farà. Domanda che piace molto e che chiedete spesso. Ovviamente l'ordine con cui vengono fatti gli interattivi è sempre l'ordine di arrivo delle domande. Quindi a volte si ripropongono anche tematiche simili dopo che è passato però un po' di tempo, altrimenti vengono raggruppati assieme. Spero che tutto vada bene, che chi è in vacanza stia trascorrendo vacanze serene, che al lavoro abbia la possibilità quantomeno di lavorare in condizioni soddisfacenti. Spero tanto veramente che non si stia lì sfruttati, sottopagati e poi immagino la situazione nelle città. Sono rientrata a Roma per poche ore, domani tornerò di nuovo e mi rendo conto che lavorare in questo periodo, bene, santo, benedetto, utile, ottimo, ci mancherebbe. Però è tosta, diciamo così, ma detto ciò, io vi ringrazio per le mail, abbiamo continuato anche con i consulti privati, nonostante la difficoltà a volte nell'invio per condizioni un po' scadenti. Vi ringrazio per i commenti, soprattutto sulle foto, il Gran Sasso è bellissimo. Io non ho avuto capacità e coraggio per continuare la scalata, mi sono fermata prima del rifugio, franchetti, perché conosce la zona. Però mi ripropongo un secondo tentativo l'anno prossimo, con un'attrezzatura migliore. Detto ciò, e dopo avervi annoiato un pochettino, ma solo così per condividere con voi i miei ultimi giorni, direi di cominciare. Avete due possibilità, la variante gialla e la variante verde. Focalizzatevi, visualizzate, pensate, riflettete, oppure semplicemente ascoltate, vedete se viene in mente una situazione specifica. Io direi di iniziare. Utilizzeremo gli arcani maggiori, utilizzeremo uno dei mazzetti ispirati alle opere di Osho. Andiamo a vedere prima com'è la situazione tra di voi, poi cosa pensa, cosa prova, e torniamo agli arcani maggiori per vedere cosa farà. Perfetto, io direi di iniziare con la variante gialla. Scusate, la mia voce è un pochino rauca, aria condizionata. Detto ciò, andiamo a vedere un pochettino come siamo messi. Ve la posiziono qui, la variante gialla, che credo si veda meglio. Allora, cosa c'è tra di voi? Di modo che se le cose non quadrano, come dicono tante simi e colleghi, potete andare avanti e cambiare variante. A volte non c'è la variante per noi, o a volte di una variante è semplicemente una frase, qualcosa che deve arrivarci. Detto ciò, resta, si sono già gettate due carte e noi le prendiamo in questo modo. Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo una situazione che non è assolutamente una chiusura, non è assolutamente uditiso, ha a che fare con due persone che hanno tra di loro una connessione molto forte, una connessione scritta nel loro tema, nel loro cielo, potremmo dire, ed è anche in realtà un'energia, quella che li unisce e li orienta l'uno verso l'altro, o l'uno verso l'altra, che viene utilizzata da entrambi in maniera cosciente ed inconscia come bussola nella propria vita. Che vuol dire? Che dinanzi a tante scelte, ecco, la presenza, il pensiero dell'altro ha un peso specifico nel far, diciamo, pendere il piatto della bilancia da un lato invece che da un altro. Esempio stupido. Mi viene offerto un lavoro importante, ciò vuol dire cambiare città, cambiare città vuol dire non incontrarla, non incontrarlo più, ecco, anche se adesso magari non c'è questo incontro così frequente, questa frequentazione assidua, io però scelgo in base al fatto che voglio rimanere nei paraggi. In questo senso, l'uno orienta e condiziona in parte le scelte dell'altro, pur non essendo magari presente in modo attivo nella vita di questa persona, cioè di voi che state osservando. Però si continua a rimanere l'uno vicino all'altro, anche con realtà differenti, ma si converge verso una direzione comune. E se sono rose, non vogliamo essere banali, ma se sono rose feriranno. E va detto che il proprio modo di essere comunque questi sentimenti, questo liquido fatto fuori uscire dalle anfore, è pur sempre nutrimento proprio per queste rose. Quindi vuol dire che dentro ciascuno di loro, ciascuno di voi, c'è un qualcosa che a modo suo va a nutrire e non fa seccare questo sentimento, a prescindere dalle difficoltà del momento presente. Anche perché il carro ci parla comunque di questa attrazione, di questo, diciamo, essere sempre orientati l'uno verso l'altra. Perché dico l'uno verso l'altra? Perché in realtà qui l'energia che passa, o meglio, il senso che è alla base di queste due carte, è un senso che trasmette un'idea di forte equilibrio e un'idea di movimento. In entrambe il movimento è una parola chiave, questo scorrere e questo procedere del carro, nonché l'equilibrio delle parti, nonché la dualità, nonché l'intenzione cosciente dei personaggi che sono soggetti delle carte. Si apre il carro, dove di solito abbiamo questo re, questo principe, quest'uomo con la mano sul fianco che si lascia portare senza toccar nulla. In questo mazzetto specifico, il personaggio prende proprio con le proprie mani le redini, scusatemi la ripetizione, prende in mano il proprio destino ed è lui a condurre il gioco. E allo stesso modo qui, il personaggio della carta delle stelle è lì a guardare quello che accade, a controllare, a dosare, a stabilire anche i tempi e la velocità. Cosa vuol dire? Comunque tutte e due, sia l'uno che l'altro, sia voi che la persona di cui chiedete, a modo vostro, ciascuno, per quello che sente, interviene in maniera attiva sulla dinamica temporale della vostra relazione a distanza o in alternanza, diciamo, di incontri e non incontri. Quindi in realtà siete tutte e due elementi attivi della situazione che state vivendo, sebbene, secondo me, in questo momento la relazione vera e propria non c'è, però c'è questo tendere ugualmente l'uno verso l'altro. Prendiamo un'altra carta. Beh, sicuramente questa situazione, che per molti di voi dura già da molto tempo, va esplicitata. Addirittura potrebbe anche trattarsi, per molti di voi, di una storia che nasce come profonda attrazione, ma che non ha mai avuto effettivamente una storia vera e propria. Colleghi, amici, così spasimanti, ma mai dichiarati più di tanto, è giunto il momento di esprimersi. È giunto il momento di trovare il coraggio e da parte di qualcuno di voi, o voi, o la persona di cui chiedete, di trovare anche la forza di pretendere, proprio quasi di, come dire, di estorcere. Ecco, non dico questa confessione, questa dichiarazione, però quantomeno che venga dichiarata una posizione, venga esplicitato un pensiero. Cioè, uno di voi due vuole capire effettivamente come stanno le cose, più che altro per potersi anche regolare e non fraintendere. Questa è un po' la situazione di partenza per questa prima variante. Ora andiamo a vedere l'altra persona, cioè colui o con lei a cui pensate, cosa pensa e cosa prova. Iniziamo ora, cosa pensa, ovviamente relativamente a voi. Cosa pensa? Le carte già erano state mescolate, ma le abbiamo mescolate nuovamente. Allora, cosa pensa? Più che altro questa persona non sceglie di pensarvi. Questa persona vi ha costantemente nella sua testa, dinanzi ai suoi occhi. Siete un qualcosa che si è imposto a lui. Non vi ha scelto. In che senso non vi ha scelto? È ovvio che vi sceglierebbe con tutto il cuore. Allora, innanzitutto questa persona non ha la certezza di piacervi. Non ha la certezza che voi lo vogliate conoscere, né ha la certezza di ispirarvi magari a trazione. Non ha molta fiducia in sé e sicuramente ha vincoli, impegni, legami, condizionamenti esterni. Potrebbe addirittura in realtà venire da una fase piuttosto pesante della propria vita. Una persona che si è separata, che si sta separando, oppure che ha vissuto da poco lutto, ha problematiche di lavoro, o persona che ha una profonda insicurezza. Potrebbe avere problemi a livello anche di attacchi di panico, problemi tipo agorafobia, o tipo cose del genere. Cioè, delle piccole idiosincrasie di cui si vergogna. Quindi, a tratto da voi, vorrebbe avvicinarsi, ma si fa già il problema del sembrerò strano. Sicuramente c'è qualcosa del genere. Qui, qual è il problema più grande? Ora, o prima di incontrarvi, comunque questa persona assolutamente non stava minimamente pensando al fatto che un evento esterno lo avrebbe messo nella condizione di desiderare di aprirsi con un altro individuo. Quindi era una persona che veramente aveva messo una pietra sopra. Anche solo l'ipotesi di pensare un noi, oltre a io, o un voglio, oltre a un devo. E all'improvviso la situazione è cambiata. O meglio, questa persona continua a vivere le stesse dinamiche e condizionamenti di prima, ma come se non riuscisse a darsi pace in questo momento, perché adesso ho capito che effettivamente il desiderio esiste ancora dentro di lui. E non lo vuole perdere. Cioè, non sa come affrontare questa situazione, non sa come venire da voi, non sa come proporsi, non sa come mostrarsi, eppure con questa manina sulla testa è come se stesse dicendosi non voglio perdere questa occasione. Ho solo disperato cosa devo fare. Non so cosa fare, non mi posso muovere, ma io questa persona la voglio nella mia vita. O meglio, io vorrei poter entrare nella vita di questa persona. C'è un grande desiderio di leggerezza, c'è un grande desiderio di felicità. Cosa pensa? Questa persona pensa di volervi dare tutto il bello di se stessa. E se riuscisse o potesse fare una cosa del genere, si muoverebbe. È solo che vorrebbe darvi solo il meglio, solo la parte positiva. vorrebbe condividere solo la gioia, i dati positivi del suo carattere, le cose che sa fare, ciò che lo rendono interessante e bello. Sul resto vuole glissare. Abbiamo tutta una vita sulla quale lui è seduto e poggia, ma è un capitolo chiuso. Lui non vuole dovervi portare nel suo passato. Ha paura di questo. Questo tappeto su cui siede, che sembra quasi una sorta di, potremmo dire, come il tappeto, la passerella, no? Il festival. Che vi conduce a lui. Passa sopra quel libro. I vostri passi, i vostri piedi. Cioè il vostro anche futuro. Perché ogni passo è un'azione, passo dopo passo, che proietta verso una realtà futura. Ecco, tutto ciò che proietta verso il futuro, la possibilità di avvicinamento per lui deve essere comunque un qualcosa che non ha nulla a che vedere con il suo passato. Da quel punto di vista, lui pensa che non riuscirà ad aprirsi. Lui vorrebbe proporsi a voi. Vorrebbe conoscervi meglio, ma più che altro. Lui è come se si fosse immediatamente innamorato. Cioè vi prenderebbe così, a scatola chiusa. Non si pone neanche il problema che voi possiate non piacergli, o possiate non andare, diciamo, d'accordo con lui. Lui si pone problemi su di sé. Quindi ha un grande desiderio di presentarsi, di farsi conoscere. E spera tanto che voi vogliate conoscerlo, ma non ha fiducia. Si è riaccesa comunque in questa persona il desiderio. Non dico la passione, perché sarebbe azzardato, ma la voglia di creare qualcosa. La voglia di uscire dalla condizione in cui si trova la voglia di essere ancora seme di un futuro che non aspettava più. Questa carta, carta della fonte, spesso l'abbiamo detto, fa pensare non solo ad un sole, ma è ad un occhio. Quindi anche a qualcosa che ha a che fare con la visione, al vederci chiaro, a rischiarare, al dare un nuovo punto di vista. Ma in realtà fa pensare quasi a una cellula uovo, se guardate, con questi filamenti che sembrano un po' gli spermatozoi, che stanno cercando di forzarla per arrivare al nucleo e fecondarla. Ecco, questa persona si sente così, sente in realtà che intorno a sé c'è questa corazza che aveva costruito, un po' voluta, un po' data dagli eventi, che rende ostico anche il vostro avvicinarvi. Quindi lui pensa, magari, da un lato, possa aver attirato la sua attenzione, ma non farà mai lo sforzo. Perché? Perché io sono una cosa difficile, io sono una persona difficile, sono uno strano, sono uno che non attrae le persone, le scaccia. non farà mai quello sforzo in più per arrivare al mio nucleo, alla mia essenza. Però ha un grande desiderio. E in questo grande desiderio di essere avvicinato da voi, perché in realtà lui non sa come fare per avvicinarvi, vorrebbe che voi entraste nella sua vita. Perché lui sa che se entrerete nella sua vita, la scombussolerete talmente tanto che veramente il vostro incontro sarà un'esplosione atomica, un seme per un futuro che lui fino, prima di vedervi, non aveva ipotizzato. ed è per questo che poi cerca anche di presentarsi in maniera più accattivante, come quello che può dare, solo che anche colui che non vuole farvi capire che dirlo c'è altro. Quindi sappiate che questa persona è molto presa, però è anche una persona che si porta tutta un'esperienza passata anche dolorosa. O meglio, se non è stata comunque dolorosa, la lasciamo su Cosa Prova, visto che si era capovolta, è un'esperienza che ha lasciato comunque tracce e condizionamenti, perché a me viene forte che questa persona potrebbe avere anche dei problemi a livello proprio di fobie, di piccole fobie. Allora, io spero di non annoiarvi, tanti mi dicono di essere veloce, tanti mi dicono segui il tuo estinto, e quindi in realtà vado, vado seguendo le immagini e le connessioni che si, così, che germogliano nella mia anima. Perfetto, oggi proprio le carte si impongono, quindi io non le scelgo. Cosa prova? Lo vediamo subito. Ah, se ne sono anche un po' sterante, quindi per questa prima variante nel mentre io parlavo verrà fuori un film lunghissimo. Era per dire, spero di non annoiarvi. Costruiamo insieme questo punto di vista su una possibile realtà relativa alla prima variante, andiamo avanti e vediamo questa persona cosa prova. Grande gioia, leggerezza, prova luminosità in che senso? nel senso di connessione profonda. Avete presente il film Shining? La luccitanza, giusto? Ecco, questa persona con voi sente una profondissima connessione, come se voi riusciste a parlare tramite il pensiero. O meglio, è l'illusione che questa persona vuole coltivare e che spera sia così, tra l'altro, spera che non sia un'illusione. Nella sua ingenuità lui si vuole mostrare nudo a voi, vedere questo personaggio, nudo sotto il vestito, ma allo stesso tempo come se indossasse una maschera, perché non ha fiducia in sé. Profondamente attratto da voi, prova una grande gioia, un desiderio per l'appunto di svelarsi, ma fa il contrario. Quindi sappiate che la persona che voi guardate in realtà si comporta al contrario di quello che desidera fare con voi o che desidera dare a voi. Vi osserva molto, è più, diciamo, il film che ha costruito dentro la sua mente, è come se stesse guardando proprio questo film in uno schermo al cinema. Le azioni sono molto meno dei pensieri che nutre e non si muove, non si mette in gioco, non fa la prima mossa, questa bella scacchiera che è la vita, perché ha paura che tutto possa andare in frantumi prima ancora di cominciare. quindi si giustifica. Lui è attratto, è incuriosito, vi osserva, nella sua mente già siete marito e moglie con non so quanti figli, felici, sposati, realizzati, ma non fa una sola mossa. Ora le prenderemo così per come sono cadute le carte. Abbiamo un po' di inquadratura strana oggi. Abbiamo l'imperatore. L'imperatore che deve ribellarsi alle sue abitudini perché se non si ribella alle sue abitudini non può neanche tornare libero, non può agire. Cosa prova? Prova il desiderio di farlo, questo è certo, ma contemporaneamente resta anche lì bloccato. Non è tanto il senso di colpa per qualcosa che ha compiuto, perché in realtà forse ancora non si è mosso nei vostri confronti. Sono i fantasmi del passato. Proprio quel passato che lui non vuole affrontare, di cui non vi vuole parlare, che però non lo abbandona, che sarà poi sempre più se inizierà così la vostra storia, quindi basandosi su questa sorta di omissione, questi fantasmi saranno sempre più pressanti e terribili da percepire, perché non ne potrà parlare con nessuno, soprattutto con voi, cioè con la persona che lui o lei ora vuole al suo fianco. In realtà dentro di sé c'è una lotta molto forte, queste due carte lo dimostrano, ed è una lotta che lo spinge a trovare un compromesso, un compromesso sia tra ciò che lui vorrebbe darvi e ciò che lui effettivamente porta dentro di sé, perché se questo compromesso non viene trovato, quel famoso carro dell'inizio, quell'equilibrio che serve per far sì che il carro possa andare avanti senza bloccarsi, ingolfarsi, capovolgersi, ecco, questo famoso equilibrio non viene raggiunto se non c'è una pacificazione interiore e questa pacificazione interiore richiede innanzitutto il coraggio di guardare in faccia tutte quelle voci che portiamo dentro di noi e armonizzarle, lasciare che continuino sì ad esistere, a vivere, a nutrirsi anche dei nostri sentimenti, però in maniera molto più, potremmo dire, molto più dinamica e molto più armoniosa, molto più fluida, ecco, la parola giusta, il fluido, il liquido che sa adattarsi alle circostanze senza forzarle, perché il liquido è contenuto, di solito non forza il contenitore a meno che ho il liquido, non lo so, come il vino nella botte, cioè ho il liquido che richiede uno spazio sempre più grande a cui non viene concesso, ma solitamente un liquido in un contenitore prende la forma del contenitore, ecco, tutti questi sensi di colpa, queste parole sono dentro di lui essendo sentimenti o qualcosa di metaforicamente liquido, deve trovare il modo di lasciare che essi possano continuare a muoversi a fluire in maniera armoniosa e equilibrata ma adattandosi a lui e non lui adattandosi ai suoi pensieri, solo così la luna viene gestita non è più inganno, è sì mutabilità di carattere e di umore però comunque si è pur sempre una luce, cosa vuol dire? Io questi fantasmi ce li ho dentro, non posso illuminarli con la luce del sole però il buio mi fa ancora più paura di una luce artificiale, perfetto, faccio sì che la luna diventi comunque positiva al di là dei lati pesanti che essa può avere. Quello che lui prova è questo, è questo subbuglio dentro di sé, nonché una grande attrazione nei vostri confronti e lo abbiamo visto. vediamo un po' cosa farà questa persona effettivamente. Forte variante molto 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 bizzarra come posso dire di solito bizzarra per me perché non so di chi stiamo parlando cerco di restituirvi delle immagini che possano essere delle metafore utili, metafore vive e non vuote parole spero che voi mi facciate sapere nei commenti. allora cosa farà? Allora allora io credo che questa persona alla fine troverà il modo di avvicinarvi però non è che verrà da voi e vi confesserà tutto quello che si sta muovendo dentro di sé tutto quello che lui ha provato e pensato fino ad ora certo ci saranno paure e situazioni che anche giustificazioni dentro di sé che cercheranno di trattenerlo o meglio che lui utilizzerà come la scusa per essere trattenuto e trattenersi però potrebbe iniziare a frequentare i vostri posti cioè prima di parlare questa persona si renderà visibile inizierà a passarvi davanti così con tranquillità con leggerezza con non scialanza a far finta di nulla sperando che intanto voi la notiate perché lo farà? perché l'attrazione è forte perché il vostro pensiero è costante perché non riesce più a tornare alla sua condizione di schiavo ma comunque uno schiavo non è abituato alla sua famosa zona di come dico io sconfort perché fin quando non vi aveva visto non aveva incrociato il vostro sguardo comunque sia il suo ruolo di suddito dei suoi stessi fantasmi per lui era pur comunque o pur sempre scusatevi pur comunque orribile era pur sempre una condizione conosciuta e quindi familiare le condizioni conosciute e familiari sebbene scomode o pesanti proprio perché i familiari diventano sopportabili adesso non ce la fa più perché adesso non riesce più a stare nella sua quotidianità perché vi cerca e vi cerca in maniera anche molto molto spasmodica perché vi cerca poi costantemente con il pensiero ed essendo già uno che non ha pace dentro la propria testa figuratevi voi se entrano anche pensieri ossessivi verso un'altra persona però è una persona sincera in che senso il sentimento che prova è reale non è una paranoia è una persona che vuole avvicinarvi è una persona che si sente legata a voi è una persona che da quando vi ha visto pensa di conoscervi da sempre è una persona che vorrebbe lasciarsi tutti i problemi alle spalle e sappiate una cosa che con tutte le problematiche che può avere questa persona però il suo desiderio è di venire a voi con il meglio di sé mostrarvi solo la gioia la luce e la possiamo dire la positività ecco la positività che magari normalmente non coltiva più di tanto ma per voi sarebbe risposta anche a questo a mettersi in gioco perché comunque sappiate che questa è una persona che dentro sé ha una situazione molto pesante e dei condizionamenti molto forti quindi quando io ho detto pensieri ossessivi non è una persona ossessiva in senso pericoloso negativo ma è comunque una persona che non dà pace a se stesso se stessa questo è quanto ragazzi non lo so ma neanche particolare dovrebbe comunque cercare di avvicinarvi quantomeno di palesare il suo interesse di renderlo proprio evidente la luce del sole per essere magari accolto da voi nella speranza che state voi ad andare incontro ad accoglierlo abbracciarlo avvicinarlo a proporvi è una persona comunque molto attratta tanto e non solo fisicamente qui c'è una attrazione proprio profonda che è soprattutto di pensiero vediamo com'è la seconda variante che situazione abbiamo per la seconda variante vediamo un po' allora seconda variante allora qualcosa bolla in pentola bel pancione adesso lo interpretiamo spesso così perché questo mondo altro non è se non un bellissimo gral un bellissimo utero una bellissima cellula uovo un uovo una mandorla andiamo a riprendere simbologie cristiane ma a parte ciò e che c'è dentro c'è una venere c'è un qualcosa che sta nascendo venere come nel dipinto di botticelli ma non solo c'è un qualcosa che richiederà sì del tempo per venire alla luce ma già si sta formando è una gestazione è un qualcosa che non è ancora magari non è stato ancora vissuto e in realtà forse non è stato ancora neanche compreso più di tanto è un sentimento latente ma è un sentimento che avrà modo di nascere di sbocciare e di farsi evidente e soprattutto udibile qui ci sarà una comunicazione nel momento in cui questa persona farà chiarezza dentro di sé capirà effettivamente cosa c'è tra di voi perché chi sta guardando la seconda variante già sa e verrebbe a dirmi noi siamo anime carmico noi siamo anime gemelle cioè l'altro non lo sa ma la persona che sta guardando il video lo sa già indagato perché è fortemente attratta quindi sta aspettando che l'altro se ne renda conto allora sappiate che da livello inconscio piano piano sta passando alla parte cosciente e quando questo qualcosa arriverà nella parte cosciente sarà un'illuminazione fulminea sarà un parto di se stessi e questo parto di se stessi cosa richiede una volta venuti ulteriormente alla luce questa seconda nascita richiederà innanzitutto o meglio cosa provocherà cosa provocherà un vagito un vagito un suono un pianto cioè più che altro sarà un qualcosa che si farà chiaro nel pensiero e soprattutto diventerà proprio un qualcosa di esprimibile ecco quindi una persona che avrà chiaro ed evidente dentro sé un sentimento che ora è solo una pulsione lo vorrà esprimere tutto questo gioco di parole dal nascere al parto allo schiaffetto al primo pianto è per dire semplicemente che sarà un climax queste azioni andranno in crescendo un crescendo che ha un ordine stabilito che ha una tempistica da rispettare e che ha anche una dinamica una dinamica ciclica perché la nascita la conosciamo tutti sappiamo tutti com'è che andrà e vi dico anche che se questa persona non lo esprime il sentimento che gli diventerà l'improvviso evidente arriva metaforicamente parlando un evento esterno che come estetrica gli dà un bel calcetto un bello schiaffetto sul sedere e lo fa esprimere per forza quindi questa persona da voi dovrà arrivare e quello che prova ve lo dovrà dire ci sarà un nuovo inizio o meglio ci sarà un inizio nuovo nella misura in cui potreste essere anime per l'appunto che già si conoscono da molto tempo quindi qualcosa bolle in pentola qualcosa che deve iniziare sulla quale vale la pena investire perché vale la pena investire eccoci qua che ve lo dico a fare il mondo il bagatto l'abbiamo detto con tante parole perché poi altrimenti sembra anche banale la spiegazione qui c'è una connessione dall'altro l'abbiamo detto questa è una persona che avrà un'illuminazione all'improvviso capirà capirà chi siete capirà cosa prova capirà cosa vi lega nonostante tutto che non riusciva prima a comprendere sentiva ma non capiva e alla fine verrà da voi quindi questa è la situazione iniziale bene cominciamo bene vediamo un po' cosa pensa in questo momento sei ancora nella fase latente ed inconscia cos'è che pensa questa persona poi vediamo cosa prova e alla fine cosa farà allora bene il scrupier dimostra la sua inabilità a mescolare le carte però ci mette anche tanta buona volontà ed eccoci qua iniziamo a voltarci eccoci eccoci bello questa remita con un nove che sta per fatti suoi chiuso nella sua quotidianità bello nascosto che mette un po' a tacere l'anima tutto ciò che è lì rintanato nel suo corpicino che dà tanto peso all'apparenza alla meccanicità alla concretezza al pragmatismo alla scienza sono quadrato la penso così io credere alle anime gemelle ma quando mai io credo solamente che 2 più 2 fa 4 e non esistono santi o madonne che metteranno ma in dubbio questo ovviamente scherzo per rendervi con questo mio modo di fare di dire un pochino l'idea per darvi un po' d'idea della persona però il punto qual è è che o credi o non credi in queste cose a un certo punto se nutri solo l'involucro l'esterno quello che c'è dentro comincia a indebolirsi e comincia a pretendere non solo attenzione ma cibo 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 e l'anima vuole comunque un cibo diverso da quello che può dare ad un corpo vuole sentimento vuole arte vuole poesia vuole amore vuole gioia ma vuole speranza al corpo la speranza serve o non serve al corpo serve la praticità la protezione e soprattutto serve potremmo dire l'appoggio in che senso un corpo è fatto di materia ha bisogno di altra materia con la quale confrontarsi per incontro per scontro questo confrontarsi fa sì che lui si possa muovere possa procedere nella propria diciamo esperienza terrena l'anima invece non ha bisogno di questo l'anima ha bisogno di un qualcosa che la proietti verso il futuro cioè ad andare oltre quel corpo stesso nel quale essa vive dimora ed abita quindi ha bisogno della speranza neanche delle certezze ma della speranza del futuribile ecco qui c'è una persona che per indole non coltiva questi aspetti è una persona che è arrivata in questo momento in una fase di grande stanchezza ed è una persona quindi che ha un po' interrotto la connessione tra l'interiorità e l'esteriorità quindi tutto ciò che è dentro tutto ciò che bolle in pentola fermenta 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 lui pensa di avere il mal di pancia è innamorato e non lo capisce non lo capisce e resta così recrattario rigido c'è questa donna che li va incontro l'uno fatto per l'altra un incontro importante un nuovo incontro dopo vita e le incarnazioni e lui è lì fermo legnoso radicato freddo eppure propenso all'abbraccio con questi rami ma non li muove è lì ed attende non si sposta però va detto il passo non lo fa ma non se ne va perché tanto non si può muovere anche perché è destinato a ricevere questo abbraccio quindi cosa sta pensando sta pensando semplicemente in questa situazione io ignorare totalmente quello che sto vivendo no perché qualcosa lo provo non capisco quindi io non mi espongo io la prima mossa non la faccio ed è lì una piccola apertura e totale poi usura interiore c'è la possibilità di uscire fuori queste porte queste finestre dietro fanno intravedere un cielo cielo le stelle le stelle le comete la speranza il desiderio il futuro e io che sto lì a piangermi addosso nella mia solitudine l'abbiamo detto questa nostra remita questo bel nove che dovrebbe nutrire l'anima invece sta là a disperarsi perché perché questa anima stessa è bloccata in una prigione dove c'è uno spiraglio dal quale percepisce che di là c'è l'infinito ma non vi può andare questo è quello che lui pensa ma questo qui ciò che lui pensa è secondo me per questa seconda variante una sorta di ciò che lui subisce e quindi che accusa senza comprendere profondamente come conseguenza di un pensiero latente che c'è dentro di lui e che lui non accetta non guarda non riconosce quindi comunque più che un pensiero cosciente più che una razionalità netta chiara pulita ed evidente qui c'è tutto un pensiero taciuto che però continua a resistere continua a premere e lo condiziona allora chissà perché questa persona si è talmente rinchiusa dentro questo corpo da non sentire più la propria anima o meglio da sentirla ma da accusare il corpo infatti guardate cosa sta accadendo perché questa carta ormai si è gettata io non la volevo far cadere ma è caduta questa qui sotto questo è quello che sta accadendo cosa prova abbiamo visto cosa pensa cosa prova perfetto un movimento sette che da dentro all'esterno si sta spostando e trovando la resistenza di quella carta di prima quindi questo involucro questo corpo che non c'è straccia tutto squarcia tutto la verità si farà evidente la dovrà guardare l'abbiamo già detto la lezza e il velo di inganno cade la coscienza e torniamo per quanto tutto questo discorso molti lo potranno trovare anche pesante però riprendiamo i termini riprendiamo come sta nascendo la storia tutto dall'inconscio deve arrivare alla coscienza un movimento dal dentro al fuori che è anche una liberazione che crea dolore perché? perché c'è resistenza perché ci si oppone cosa prova? eccoci qua prova un dolore potremmo dire perché sebbene sia una lotta con la parte razionale di se stessi è pur sempre un qualcosa che fa soffrire e quindi è un dolore di natura diversa dal dolore fisico ma pur sempre un dolore e lui cerca di non ascoltare si trova disarmato ma queste voci pretendono attenzione pretendono che lui apra gli occhi per quanto lui li vuole chiudere e per quanto lui cerchi di tapparsi le orecchie pretendono di essere ascoltati cosa prova questa persona? bello perché sono riuscite le carte di prima questa persona sta provando semplicemente gli effetti pesanti dell'opporsi al fatto che la voce interiore si vuol far sentire e lui non ascolta semplice banale coscienza senso di colpa voce interiore tutta la vita che c'è dentro quest'uomo è stata per anni forse da sempre forse da piccolo messa a tacere o meglio non potendola mettere a tacere lui che ha chiuso i sensi atti all'ascolto ora queste voci che hanno accumulato per inerzia tanta forza stanno diventando esplosive perché si è accumulata talmente tanta energia compressa che sta per esplodere prendiamo qualche altra carta perché ne volevo prendere tre ma nella prima variante sono cadute altre carte cosa sta provando sta provando che tecnicamente non ha nessuna facoltà di tenere a bada in silenzio in ordine la sua vita interiore anche perché avendola ignorata non la conosce non conoscendola non sa gestirne le dinamiche questa persona sta vivendo una lacerazione profonda e sta soffrendo come un cane che l'espressione magari non rende perché povero cane non lo sappiamo cosa vuol dire soffrire come un cane e già semplicemente immaginare che sia diventato un detto fa pensare che poveri cani abbiano sofferto veramente subito chissà quante atrocità questa è una riflessione che aggiungiamo non fino al consulto però tanto per fare due chiacchiere ecco cosa prova per quanto questa carta possa ad un primo sguardo apparire molto rilassante voi pensate una persona che si oppone al seguire il flusso è completamente inondata devastata e sballottolata via da uno tsunami quello che sta accadendo a questa persona questa persona si oppone ad un movimento naturale lo ha fatto da tanto tempo non lo sa secondare e ha talmente ingarbugliato la sua vita interiore che adesso capire dove inizia e dove finisce è molto difficile questo mancato rapporto armonioso tra il dentro e il fuori fa sì che ciò che doveva procedere in maniera semplice fluida come abbiamo detto per la prima variante all'improvviso si sia trasformato in un'onda che porta via tutto proprio l'immagine dello tsunami via lui questo soffre sente di non avere né punti di riferimento né punti d'appiglio però la cosa bella tra l'altro o brutta che sia è che da questa sofferenza nel momento in cui questa rottura verrà e poi sperimenterà il fatto che soffrire non vuol dire per forza morire sempre un po' la paura e perché torniamo con le metafore stasera simili prima del parto un dolore immenso la prima volta che partorisci immaginatevi la prima donna che non ne sapeva nulla che è lì non sa neanche cosa sta accadendo che soffre magari dei dolori peggiori che abbia mai provato in vita sua e dopo di che arriva l'amore la gioia il completamento la felicità e il senso perché la cosa peggiore perché questa persona sta soffrendo così è che non avendo realizzato a livello cosciente cosa sta accadendo lui non sa tradursi questi pensieri ed è per questo che lo fanno soffrire perché se lui riuscisse a capire che questi pensieri gli stanno parlando d'amore lo stanno spingendo a furia di calci nel sedere verso la persona giusta ecco se lui riuscisse a comprendere questo asseconderebbe quei pensieri asseconderebbe quel movimento e nella seconda non ci sarebbe l'attrito ma anzi ci sarebbe la propulsione quindi si troverebbe anche facilitato in quello verso il quale è destinato e chiamato cosa farà alla fine vediamo un po' comunque sappiate e fatemi sapere che questa persona che ora sta soffrendo questi famosi dolori del parto sarà la persona più felice del mondo quando poi questa lacerazione avverrà e la sua anima finalmente dandogli un bel coppino come si dice dalle mie parti tra capo e collo dietro la nuca gli dirà guarda avanti che c'è la tua anima gemella come hai fatto a non capirlo sarà bellissimo sarà una scena comica cosa farà e cosa farà alla fine dovrà per forza di cose cedere a questo evento esterno che lo catapulterà fuori da tutte le sue difese dalla prigione nella quale si è chiuso quella torre che poteva dargli sia un punto di vista dall'alto quindi per mettergli con la sua razionalità perché il punto di vista dall'alto è appunto l'intelletto il ragionare il ponderare il cercare di fare previsioni statistiche controllare la realtà all'improvviso crolla tutto crolla tutto e quella destolina la sbatti per terra crolla tutto e ti trovi capovolto nella realtà e non capisci più se sei tu capovolto o se è la realtà che sei capovolta fatto sta che ti devi alzare a meno che uno voglia rimanere in questa posizione ancora più scomola ma non credo che avverrà quindi lui agirà dopo che qualcosa dall'esterno lo costringerà ad agire perché altrimenti se dovesse prendere l'iniziativa state belli freschi che non si muove questo qualcosa che arriva dall'esterno e dall'alto è proprio questa illuminazione e infatti vedete il sole che distrugge la torre una fonte di luce un cupido circondato dal sole che lo proprio centra come bersaglio quindi all'improvviso accadrà una cosa naturalissima all'improvviso questa persona dirà Eureka ho capito cioè ci sarà proprio un'illuminazione e capirà di essere innamorato voi direte ma non poteva capire prima c'è tutto questo casino tutte queste parole c'hai ammorbato per 20 minuti per dire che questo è innamorato e non lo sa e cosa farà sceglierà abbiamo cominciato con la carta bellissima e arriviamo chiudiamo proprio ciclico il 21 il mondo la circolarità del mondo della corona dall'oro della vittoria della nascita questo capovolgimento che sembra la fine di tutto che invece dà una nascita il bambino per nascere si deve capovolgere nell'utero per venire alla luce questo avverrà io mi scuso con tante persone che non amano le metafore vorrebbero una cosa molto più veloce si ti incontra ti ama sta con te però perdonatemi questo è il mio modo di essere e io spero di darvi più che altro la mia buona fede quello che è venuto fuori è un quadro molto bello soprattutto per questa seconda variante ed è bellissimo il modo in cui le carte si sono riproposte sia come immagini che come significati io vi consegno questo interattivo e vi ringrazio profondamente se vorrete farmi sapere se qualcosa risuona vi mando un bacio e un abbraccio